Compie 15 anni il centro specializzato per l'ipovisione infantile e dell'età evolutiva dell'azienda ospedaliera di Padova con un incremento di pazienti dagli iniziali 86 agli attuali 1600. Si tratta di una realtà di riferimento di caratura nazionale del terzo livello con approccio complesso per patologie gravi della vista da 0 a 18 anni e particolare impegno nella rete delle malattie rare causanti ipovisione per cui è accreditato nonché malattie genetiche e non malformative dell'occhio, sostenendo anche l'inserimento dei piccoli pazienti nella vita sociale, particolarmente toccanti le testimonianze del presidente dell'Unione Provinciale Ceichi di Padova e del genitore di un ragazzo oggi tredicenne curato per una grave patologia fin da quando era poco più che neonato. La possibilità di avere una diagnosi precoce, di sapere che non è tutto buio, cioè la vita c'è la possibilità di migliorare nonostante magari il visus resta quello, le capacità diciamo di interagire con gli altri, di trovare la possibilità di trovare una strada propria anche, come dicevamo prima nello sport, in altre attività, insomma fa in modo di avere una fiducia per il futuro, questo sì. In un bambino di pochi mesi com'è possibile accorgersi di determinate patologie? Il sospetto può venire dal fatto che il bambino non ha un po' un aggancio visivo, nel senso che un bambino di tre mesi mentre viene allattato dovrebbe agganciare con lo sguardo la mamma o può avere gli occhi che ballano, che si chiamano istangu, può avere gli occhi con una forma strana, malformata, va molto vicino alle cose, non riconoscere persone, man mano che diventa un pochino più grandicello, cioè un anno o due anni, porta i giocattolini vicino agli occhi, non riconoscere persone a una certa distanza, quindi questi sono segni di sospetto. Abbiamo voluto iniziare la seconda parte di Sette in Punto con questo servizio che è la testimonianza di quello che si fa all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, un centro di eccellenza sanitario, non soltanto regionale ma anche nazionale e internazionale, Padova è sempre stato un suo punto di riferimento della sanità, anche se ultimamente da un punto di vista della comunicazione ha tenuto un profilo un po' più basso. Per parlare di questo abbiamo qui con noi questa mattina, niente meno che il direttore sanitario, il dottor Gianluigi Scanna Pieco dell'azienda ospedaliera di Padova. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. È solo una sensazione giornalistica oppure si parla meno di quello che si fa nell'azienda ospedaliera di Padova ma a prescindere dal parlarne meno o di più, il fatto è che si è continuato ad operare in maniera ad altissimo livello. Certamente, diciamo che questa nuova direzione è arrivata da un anno, ha dovuto un attimo riprendere in mano un po' alcune cose, abbiamo lavorato forse un po' nelle retrovie, nel back office per fare alcune scelte di fondo che l'azienda necessitava. Indubbiamente l'attività non si è mai fermata evidentemente, anzi a maggior ragione in questo momento in cui la regione, nel piano sanitario regionale, ha riconosciuto a Padova e a Verona il ruolo di hub regionale, quindi di punto di riferimento per la regione Veneto ma anche per la nazione, anche poi adesso che si apriranno le frontiere anche per un livello internazionale, di attività che sono di alta specialità e quindi possibile erogare soltanto in queste strutture. Che cosa significa azienda ospedaliera? Perché spesso si fa confusione, si considera l'azienda ospedaliera come un ULS, invece l'azienda ospedaliera che c'è soltanto a Padova e a Verona ha, lei parlava di ospedale hub, nell'organizzazione del nuovo piano sociosanitario ci sono questi ospedali che curano le acuzie e i grandissimi interventi e poi gli ospedali di territorio che servono per interventi di altro tipo, così si concretizzano, si accentrano in alcuni centri di eccellenza la massima operatività di altissimo livello e non si hanno dei doppioni in giro per il territorio. Che cos'è l'azienda ospedaliera? Proprio per spiegare. Questa è una domanda molto importante perché se noi chiediamo a 100 cittadini padovani di capire qual è la differenza tra azienda ULS e ULS, non lo percepiscono ed è giusto che sia così tra parentesi perché ci mancherebbe altro che un cittadino dovrebbe, dovesse capire dove va a curarsi. Allora il modello della sanità veneta, che la sanità è regionale, quindi Veneto ha fatto una scelta ben precisa che a mio avviso è una scelta forte che è all'origine del successo e di fare aziende, unità locali sociosanitarie, quindi mettere insieme il territorio e l'ospedale in un'unica azienda e mettere insieme le competenze sanitarie e quelle di assistenza sociale. Quindi situazioni dove il confine spesso è abbastanza sfumato. In Veneto ci sono 22 aziende ULS, fra cui quella di Padova, la ULS 16, che è all'ospedale di Sant'Antonio e più di sacco come riferimento. Le aziende ospedaliere in Veneto sono due. In altre regioni il modello è diverso, in altre regioni come la Lombardia e la Emilia Romagna le aziende ospedaliere sono di più, 7 in Emilia Romagna, penso una quindicina in Lombardia e così via. Quindi l'azienda ospedaliera è un'azienda che eroga solo prestazioni e lo fa nei confronti di tutti coloro, tutte le aziende ULS che lo richiedono. Invece l'azienda ULS ha al suo interno tutte e due le cose. Chiaramente l'azienda ospedaliera solitamente ha un livello di complessità elevato, anzi è proprio previsto dalla normativa che deve avere alcuni requisiti e solitamente, ma non sempre, è legata all'università. Infatti nel modello Veneto sia Padova che Verona sono aziende che hanno l'integrazione fra ospedale e università, cosa che non avviene nelle restanti situazioni. E questo è il plus che Verona e Padova può offrire non solo al Veneto, ma anche giustifica perché sono dei poli di riferimento, non solo regionale ma anche nazionale per la sanità. Assolutamente sì, perché il valore aggiunto dell'università è quello di mettere insieme le competenze di assistenza, ricerca e didattia, quindi anche tutta l'innovazione, nonché l'avere un rapporto con quella, io ricordo che l'Università di Padova è stata recentemente definita come in molti ambiti della medicina, come la più prestigiosa d'Italia, con un ranking ufficiale che il Ministero dell'Istruzione ha definito. Quindi viceversa, avere per gli universitari a disposizione strutture assistenziali evolute, chiaramente questo rapporto si potenzia. Da questo nasce l'importanza di lavorare in sinergia, evidentemente. Vogliamo raccontare un po' qual è l'attività dell'azienda ospedaliera di Padova, visto che lei ha detto che avete dedicato un anno per riorganizzarvi e riorganizzarvi come? E perché dovevate riorganizzarvi? A di là del cambio della dirigenza? Sì, innanzitutto abbiamo cercato di capire anche noi chi siamo e cosa dobbiamo fare, perché è una cosa scriverlo su un documento, è una cosa poi realizzarlo nella pratica. Allora, sostanzialmente, e questo l'abbiamo scritto nel nostro atto aziendale, fra l'altro approvato ieri della Regione, la nostra azienda ha sostanzialmente tre funzioni. La prima è di essere comunque un riferimento per la cittadinanza del Padovano, perché questo di fatto è così. Il pronto soccorso è qui, alcune attività sono qui in azienda, non ci sono nel restante territorio dell'azienda URSS. Quindi riferimento per la sanità padovana ad integrazione di quello che fa l'azienda URSS. Secondo, siamo un riferimento per la provincia. Ci sono alcune specialità che sono nell'ambito della programmazione sanitaria veneta su base provinciale. Faccio un esempio, la cardiochirurgia, la neurochirurgia sono situazioni che non troviamo in tutte le URSS. Padova fa da riferimento, azienda fa da riferimento per la provincia di Padova, come l'ospedale di Treviso fa da riferimento per la provincia di Treviso e così via. Ma in questo non siamo diversi da Treviso, Vicenza, Mestre. Poi c'è un sovralivello. Certo. Poi c'è un sovralivello che è quello regionale, ma qui possiamo andare anche oltre la regione, dove sono alcune attività che sono tipicamente in esclusiva. L'attività talpiantologica, l'attività di trasporto neonatale, per esempio, l'onquematologia pediatrica, il centro stioni. Questa è come attività in esclusiva. Ma anche nell'ambito di quelle specialità che citavo prima, la cardiochirurgia e la neurochirurgia, Padova offre un'offerta completa anche di quelle attività che per complessità intrinseca o per necessità di un sistema intorno che garantisca l'assistenza completa, possono verificarsi solo in alcune situazioni. I casi più complessi di assistenza, quindi per patologia oppure per intervento complesso, vengono eseguiti necessariamente a Padova, al massimo a Verona. Assolutamente sì, Verona è abbastanza speculare, direi che su alcune realtà siamo abbastanza gemelli, diciamo. Su altre c'è una... poi quello che fa la differenza a volte è anche la tradizione, la scuola, per cui magari ci sono alcune specialità. E con le specificità di Padova, proprio per tradizione, per scuola, per studi anche universitari, perché poi ogni università sfocalizza su un... per esempio, se non ricordo male, c'è una specificità di Padova legata ai tre pianti della pelle, che è un po' un'esclusiva di questa azienda ospedaliera. Sì, tutta l'attività del centro ustioni, effettivamente è molto particolare, è molto delicata, noi facciamo del riferimento regionale in questo senso. Ci sono stati da noi gestiti casi con successo ai limiti dell'incredibile, abbiamo avuto anche casi che hanno avuto molto rilievo di ustioni sul 95% della superficie corporea, persone sopravvissute, sopravvissute all'incendio e sopravvissute anche... Sì, alla vita. Assolutamente, che hanno avuto salva alla vita, in situazioni veramente estreme dal punto di vista... ma al di là di questo, poi abbiamo la tradizione di Padova sui tre pianti, al di là della cardiochirurgia, il primo tre pianto, ricordo dal professor Gallucci, al suo tempo poi è stato un lungo seguito di attività e oggi però al di là del trapianto cardiaco che non dico è diventato di routine perché sarebbe banale, ma ci sono, però si fa insomma, fra l'altro molto meno di una volta perché per certi versi, per fortuna i donatori sono di meno, i donatori erano giovani, ma a differenza del trapianto di fegato, del trapianto di rene, il donatore del trapianto cardiaco tipicamente è un giovane, quindi da questo punto di vista, però questo pone il problema di come superare il trapianto di cuore, cioè come andare ad evolvere tecnologie nuove... Per salvare la vita di chi è ammalato senza sottoporlo al trapianto? Sì, senza sottoporlo al trapianto, quindi senza dover augurarsi, tra virgolette, ecco che quello sarebbe invece il grande successo, ma di avere l'alternativa tecnologica, il cuore artificiale piuttosto che non di... E di queste specificità parliamo subito dopo la pubblicità che è un trapianto necessario per la nostra attività. Torniamo tra un paio di minuti, grazie. Siamo tornati in studio, vogliamo parlare dell'azienda ospedaliera di Padova, lo facciamo con Gianluigi Scannapieco che è il direttore sanitario proprio dell'azienda ospedaliera padovana. Lei ci stava ricordando quali sono le attività d'eccellenza dell'azienda padovana, la trapiantistica, ma soprattutto anche l'innovazione tecnologica e la ricerca che porta ad esempio nel caso dei trapianti di cuore a poter eseguire questi trapianti con organi artificiali che sono orizzonti insperati ma auspicabili. Questo si fa all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova. Certo, parlare di organi artificiali forse è un po' prematuro. Sicuramente adesso Padova è uno dei centri dove si applicano dei supporti meccanici all'attività cardiaca in situazioni che di solito si fanno da ponte al trapianto. Padova sicuramente è uno dei centri che in Italia è più avanti da questo punto di vista. Ci sono poi dei filoni di ricerca proprio che vanno verso la realizzazione del cuore artificiale totale, ma è ancora presto per parlare di questo. E' un po' il difetto che abbiamo noi giornalisti, di vedere come dato per scontato quello che è un percorso della ricerca e creando anche delle aspettative e delle illusioni. Però insomma si è verso questo orizzonte. Quali altre cose? Proprio perché si diceva anche nella prima parte della nostra intervista che secondo me la sensazione è che l'azienda ospedaliera di Padova ha perso un po' il suo ruolo, perlomeno nella visibilità all'interno del Veneto, il suo ruolo così di eccellenza che è un dato di fatto, un dato oggettivo. Quindi vorremmo anche ripercorrere, c'è stato un cambio di direzione generale, ma vorremmo appunto ripercorrere un po' anche attraverso dei numeri, qual è l'attività impegnativa di una realtà come Padova, che è una realtà molto complessa, anche alla luce poi di quello che viene definito insomma il trasferimento dei pazienti che da sempre arrivano un po' da tutte le parti d'Italia e anche con la nuova normativa che permette che uno possa andare a curarsi dove vuole anche in Europa, probabilmente Padova sarà anche polo trattore di figure che arrivano dall'esterno. Certo, ma sicuramente peculiarità a Padova ne ha tante. Potrei ricordare per sempre tutto il polo materno-infantile dove ci sono alcune peculiarità assolutamente uniche nel panorama Veneto, l'onco-ematologia pediatrica per esempio che è ben nota, ma anche le malattie metaboliche, ma anche la nefrologia pediatrica. Padova di fatto ha al suo interno, l'azienda ospedaliera, un ospedale pediatrico a tutti gli effetti, all'altezza di quelli che sono i principali ospedali pediatri italiani come il Gaslini, a Genova, il Meyer, piuttosto che è il burlo garofaro. L'unica differenza è che è all'interno di un ospedale più grande, ma l'ospedale pediatrico di Padova offre tutto lo spettro, dal pronto soccorso fino al standard di degenza, fino ai trapianti. Non dimentichiamo che Padova è uno dei pochi posti dove è la trapiantologia pediatrica, quindi in termini soprattutto di nefrologia è ai primi posti nel nord-est, ma anche in Italia. Però la pediatria è anche un esempio di come l'offerta pediatrica vale per il trapianto di rene, ma anche per il pronto soccorso pediatrico, perché Padova fa del riferimento per la U16, per la parte pediatrica, quindi da questo punto di vista il portafoglio di offerta di Padova è completo. Mi sta evidenziando anche in alcuni riferimenti fatti prima il ruolo che vuole essere un ruolo completo dell'azienda ospedaliera di Padova. Sì l'eccellenza, sì la specialità, sì l'università, però anche un ospedale capace di dare risposte immediate, basiche, chiamiamole così, al cittadino padovano. Quindi attenzione sempre più al paziente, non deve essere vissuto l'ospedale di Padova come una realtà accademica, ma un punto di ascolto e assistenza per chiunque. Assolutamente sì. Questo è molto importante perché sempre di più dobbiamo evitare di vedere la prestazione sanitaria come un puro aspetto tecnologico. In effetti da noi vengono persone che hanno un problema, che è un problema di salute, ma anche un problema psicologico, una situazione di debolezza, di fragilità. Hanno soprattutto un'aspettativa che è quello che qualcuno si faccia a carico del loro problema. E il farsi carico del problema purtroppo non sempre è guarire. Sempre più spesso abbiamo patologie croniche che non guariamo ma controlliamo. Per non arrivare ai casi estremi dove farsi carico del problema vuol dire anche accompagnare ad un percorso che non è l'accanimento terapeutico a tutti i costi. Ma è la riduzione del dolore. Quello che è meglio, la terapia del dolore. Potrebbe essere questo un esempio. Quindi mi piace citare quello che abbiamo inserito nel nostro atto aziendale, fra i valori aziendali c'è la centralità della persona. Si cura l'uomo non più l'organo. Non si cura la malattia, soprattutto. Si cura la persona. Ma lo slogan è persone che si prendono cura di persone. Perché non dimentichiamoci che anche chi lavora in sanità e che quindi è sottoposto ad un importante, anche emotivo carico quotidiano, è una persona. Io penso sempre a chi lavora in oncometologia pediatrica. Sono degli eroi con questi bambini. E' anche difficile non lasciarsi condizionare dalle emozioni. Quindi attenzione sicuramente a chi viene da noi in un momento di bisogno. Attenzione anche per chi quotidianamente deve farsi carico del dolore altrui. E' questo il concetto dell'ospedale liquido? Sì, l'ospedale liquido è un termine che comincia, vedo, a entrare nella... No, l'ospedale liquido è l'ospedale senza pareti. Allora, il concetto che stiamo cercando di spingere in questo momento è che essere centro hub, essere centro della rete, no? Questo vuol dire poi di fatto governare le reti. Non vuol dire necessariamente che tutti i pazienti devono venire a palma. Al di là dei problemi di parcheggio che conosciamo. Ma il problema va gestito il più possibile in modo da non togliere il paziente dalla sua realtà e non sovraccaricare. Faccio un esempio banale. E qui rientra in una visione del paziente come essere umano, no? Non l'attenzione alla malattia, ma al paziente. Assolutamente sì. Ci sono dei pazienti che necessariamente per la loro patologia devono venire qui a Padova. Citavo per esempio le malattie metaboliche, sono malattie rare, possono essere anche altre. Però una volta che io ho gestito la situazione acuta, forse il mio compito come ospedale di Padova è quello di creare una rete sul territorio che attraverso strumenti vari, che possono essere il teleconsulto, possono essere... condividere alcune regole, mettono in condizione di volta in volta il pediatra dell'ospedale periferico, il cardiologo, di gestire un certo livello di complessità localmente e con alcune regole di ingaggio che definiamo insieme spostarlo fisicamente a Padova solo quando è strettamente necessario. Quanto è necessario per gestire questa sanità fluida, liquida? Quanto è necessario investire in tecnologia? Quanto è importante smaterializzare poi le pratiche? Perché vedi, il teleconsulto, tutto va bene, ma non abbiamo ancora la cartella digitale. No, però stiamo lavorando, io ricordo che il Veneto in questo momento ha in corso un progetto molto importante che è il fascicolo sanitario elettronico regionale che è in fase avanzata, una media di realizzazione e che dovrebbe mettere a fattore comune una serie di conoscenze, informazioni che sono il presupposto per questo. Che immediatamente il medico di base, se io esco da un ricovero e arrivo, torno a casa mia, sa che cosa mi hanno fatto in ospedale, sa anche come gestire il decorso della mia malattia senza che io debba ritornare necessariamente finita la fase futa. Magari ho tutta una serie di realtà intermedia a cui rivolgermi che mi danno assistenza adeguata. Ma vede, questo è proprio il noccio del problema. Una volta, io purtroppo ho qualche anno di laurea, quindi ho ricordi non recentissimi, una volta il potere in medicina si misurava sui posti letto e sul personale. Era un po' un approccio feudale, la tifondista. Adesso invece l'approccio deve essere molto diverso. È un approccio più vicino a quello che era, senza essere indipendentista, la Repubblica Veneta. Lavoro sui commerci, sulla rete commerciale. Non sarà perché non ci sono più soldi per tanti posti letto? No, ma non è... Vede, io penso che sia sbagliato porlo dal punto di vista economico. Perché, e ne parlo spesso con i colleghi, anche oggi abbiamo avuto un incontro, la buona pratica clinica, che vuol dire fare ciò che è nell'interesse del paziente, in termini di sicurezza e di efficacia, comporta naturalmente un risparmio. Ma risparmio non vuol dire spendere di meno, risparmio per me vuol dire non sprecare. Non spendere meglio. Spendere meglio, brava. Che è quello che mi insegnava mia nonna. Cioè, nel senso che non è che dobbiamo andare a bocconi e imparare queste cose qua. 100 euro possono essere spesi bene se sono investiti, e che mi ha un ritorno. Possono essere anche un euro speso male se è buttato via. Quindi, allora, alla fine, non dobbiamo entrare nella logica del risparmio che viene letto male. No? Manora per risparmiare, fanno a lungo una risposta. No. Il concetto è, devo dare la prestazione giusta alla persona giusta nei tempi giusti, nel contesto giusto, e che venga data dal professionista giusto. perché sempre di più stiamo spostando, ma non per risparmiare per alcune attività, dal medico all'infermiere, all'ostetrico, piuttosto che... E ci state riuscendo, e come mai solo ora si scopre questa rivoluzione copernicana, questa umanizzazione della cura? Beh, solo ora no, nel senso che... Allora, non è solo ora, diciamo che stiamo accentuando quella spinta in questa direzione. Io, l'opportunità di lavorare a stretto contatto con l'università è molto importante. L'università forma i medici. No, la scuola di medicina forma quelle che sono le generazioni successive. E la riflessione che stiamo avviando in questo periodo con la scuola di medicina è proprio questa. Dovremmo cominciare a formare i medici con un approccio un po' diverso. Perché è un approccio eccessivamente tecnologico, eccessivamente specialistico, eccessivamente legato al rapporto uno a uno. È un approccio che non è più attuale. Ecco, per cui l'attenzione appunto è la presa in carico. A volte il paziente apprezza di più la parola detta al momento giusto quella sensazione di sentirsi accudito che non la prestazione di altissima tecnologia. Quanto il paziente ha determinato questa rivoluzione? Perché lei sta raccontando uno scenario che forse apparteneva a quello dei nostri nonni quando il medico, chiamiamolo di campagna, conosceva i suoi pazienti. Poi c'è stata l'iperspecializzazione anche noi tutti quanti. Prima di andare al medico di base si andava direttamente allo specialista che ci curava. E quanto invece adesso c'è una riscoperta del ritorno proprio alla consapevolezza di uno che abbia chiaro il tuo quadro clinico per capire che per agire su una malattia bisogna contestualizzarla anche in relazione ad altre patologie che una persona può avere? Allora, sono cambiati un po' i tempi. Una volta nella vita di paese uno andava nel negozio in centro del paese e la trovava il detersivo l'emporio e faceva anche due chiacchiere e si sentiva anche bene perché parlava con il negoziante. È chiaro che adesso in un contesto dove andiamo negli ipermercati che sono centralizzati che hanno tutta l'offerta dall'arancio fino allo zucchero Rischiamo la bulimia però Per fortuna la crisi economica ci ha riportato ad una dimensione quantitativa consona all'organismo umano. Per cui anche nell'ambito sanitario è difficile che sia una singola persona medico di medicina generale che si faccia carico di tutto. Quello che dobbiamo fare dato per scontato che non può essere una singola persona è lavorare in squadra. In rete. In rete. Quindi mettere a disposizione gli strumenti quindi fare in modo che la mia lettera di dimissione arrivi in tempo reale al medico di medicina generale che io sappia le prescrizioni di farmaceutiche che fa lui e ripeto su questa strada il vento si sta muovendo molto bene. Come risponde il paziente a Padova in questo processo in questa trasformazione che poi è una trasformazione proprio anche dell'approccio alla cura? Il paziente anche il paziente che poi il paziente è un termine un po' desueto forse la persona che si rivolge a noi è diversa da quello che accadeva 30-40 anni fa perché le aspettative sono diverse perché comunque c'è una maggiore come dire richiesta di applicare tutte le tecnologie più avanzate ed avere l'impressione che se non si fa tutto si trascura qualcosa. Il paziente risponde bene il problema è capire quanto anche chi lavora in sanità è pronto a farsi carico completamente di questi problemi. È un percorso importante che stiamo portando avanti con decisione con convinzione soprattutto e le persone che si prendono cura di persone sottoline proprio anche questo aspetto relazionale importante perché è vero che spesso si parla di malasanità ci si lamenta ma io vorrei dire anche nei miei ricordi di medico che ho lavorato per molti anni in ospedale che lo standard è la gratitudine lo standard è l'apprezzamento per quello che si fa lo standard è quando tu finisci la notte il turno infermieristico che arriva è il familiare del paziente che ti porta le pastine per dirti grazie di quello che hai fatto quella notte o il caffè esattamente questo è tuttora è lo standard del rapporto poi dopo è chiaro che fa molto più notizia la denuncia piuttosto che non la lamentera sacrosante perché poi noi dobbiamo noi che governiamo la sanità dobbiamo fare molto attenzione al punto di vista di chi ci osserva da fuori dei nostri clienti in qualche modo libertà di farsi curare ovunque è un'opportunità per i veneti un'opportunità per le strutture sanitarie venete che possono attrarre chiamiamoli così i clienti parlando dal punto di vista della gestione di un'azienda è una libertà insomma una conquista o c'è il rischio che ci possa essere il caos? allora è entrambe le cose un'opportunità o un pericolo a seconda di come lo gestiremo noi tra parenti siamo una regione abbastanza vicina a confine per cui è vero che ci si muove in aerea a vari confini però diciamo che questo è un aspetto da tenere presente allora la normativa è di recente applicazione sta andando a regime in questo periodo ricordo che consente lo spostamento all'interno della comunità europea comunque per accedere a un certo numero di prestazioni non tutto evidentemente che non devono più essere autorizzate quindi dell'azienda di riferimento già adesso si può andare all'estero la differenza è che adesso deve essere autorizzata e viene autorizzata quando non c'è un'alternativa in Italia o nel Veneto insomma quindi può andare dovunque per fare molte prestazioni e viene rimborsato a posteriori quindi quello che già adesso avviene è una propria odontogliatria no? su questo bisogna fare attenzione a due cose primo al low cost perché il low cost in sanità è sempre pericoloso quindi d'altra parte bisogna anche stare attenti a una potenziale emorragia dei pazienti perché poi per noi viene a essere molto costoso e questo è il pericolo se non lo gestiamo bene l'opportunità è esattamente l'opposto cioè il fatto di avere aziende come quella di Padova che ha rinomanza perché insomma la sanità padovana nonostante tutto è ancora l'università di Padova l'azienda di Padova hanno un nome quindi possiamo attrarre però dobbiamo organizzarci per farlo cioè dobbiamo e la regione su questo sta lavorando dobbiamo attrezzarci perché bisogna mettere in atto delle politiche anche di marketing cioè di far conoscere i servizi di offrire alcune sistemazioni anche alberghiere insomma che abbiamo un'offerta alberghiera importante oserei dire perfino turistica perché le due cose poi non non sono necessariamente scollegate fra di loro quindi la differenza fra pericolo e opportunità sarà da come la governeremo e non c'è adesso uso il pericolo che appunto attraendo anche persone che arrivano dall'estero non ci sia più spazio per curare i padovani i veneti gli italiani no perché tutto questo se è gestito bene porterà soldi nuovi e quindi sarà attività aggiuntiva in effetti i padovani a volte hanno questo complesso di dire vengono da io ho la sensazione che pochi veneti hanno voglia di andare a farsi curare all'estero visto che comunque insomma in qualsiasi ospedale del nostro territorio penso sia difficile dire che non si sia curati adeguatamente primo per questo perché lo standard è molto alto e secondo perché poi è difficile che ci siano situazioni che si assauriscono con un singolo atto medico molte patologie sono croniche molte patologie richiedono anche la vicinanza pensiamo alla persona anziana che deve andare a fare i controlli per cui ci sono alcune situazioni vabbè faccio l'intervento chirurgico one shot faccio l'intervento e torno a casa ma la maggior parte delle situazioni sono situazioni e poi come diceva lei ho preferito non dirlo io il livello medio avete già ricevuto parecchie richieste dall'estero visto che il meccanismo si è messo molto da poco ma insomma magari qualche no anche perché è recentissimo 5 aprile però mi piace sottolineare come ci sono realtà citavano l'encomatologia pediatrica dove vengono afferte piante di midollo dalla Venezuela sono delle convenzioni per esempio fatte che per noi sono opportunità perché consentono di valorizzare il personale le apparecchiature che abbiamo aumentando l'efficienza aumentando l'offerta e questo naturalmente senza andare a discapito del bisogno locale l'ultimo minuto e mezzo necessario che lo dedichiamo il nuovo ospedale di Padova voi ogni anno continuate a spendere 50 milioni per una disposizione dello Stato per mantenere la struttura esistente assolutamente funzionante però credo sia in dubbio che per una realtà come Padova serva un nuovo ospedale sì serva un nuovo ospedale per vari motivi perché l'ospedale di adesso non è più quello di una volta in termini di dimensioni in termini di tecnologie perché la collocazione anche fisica tutto sommato non è felicissima in centro città quindi l'accessibilità e soprattutto perché bisogna porsi il problema da un altro punto di vista se non lo facessimo in un ospedale perché questo è il problema se non lo facessimo vuol dire che dobbiamo portare l'attuale ad un livello di efficienza di sicurezza che sia non valido solamente adesso ma sia valido per i prossimi 30 anni e la manutenzione annuale di 50 milioni è sufficiente comunque andare a rattoppare è comunque un rincorrere i problemi è comunque un rincorrere i problemi dove poi sarebbe anche da fare l'analisi del costo di non fare l'ospedale eccitava la manutenzione ma non è solo quello insomma quindi per cui se ne è parlato tanto e siamo forse al momento giusto per chiudere questa partita perché poi nella vita non decidere è una decisione e torniamo a quel discorso che lei faceva prima che con la paura di spendere troppo poi alla fine si spende di più per un qualcosa che non ha la stessa efficacia la stessa efficienza questo è un rischio non abbiamo più tempo a disposizione io ringrazio Gianluigi Scannapieco direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova che ci ha così condotto a scoprire a riscoprire quella che è l'azienda ospedaliera di Padova l'ospedale di Padova ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina torniamo domani mattina durante la giornata all'edizione del TG grazie arrivederci buongiorno a tutti grazie a tutti